Quando la media 50 attraversa il prezzo dal basso verso l'alto, compreremo una call con scadenza a un'ora. Quando la media 50 attraversa il prezzo dall'alto verso il basso, venderemo una put con scadenza a un'ora. In questo grafico vi ho segnato i punti d'ingresso. Come potete vedere ce ne abbiamo due a distanza di molte ore. Nel primo punto la DX è in trend, sta salendo, le bande di Bollinger si stanno allargando e la media mobile attraversa il prezzo dal basso verso l'alto. Quindi compreremo una call con scadenza a un'ora. Nel secondo esempio la DX è in trend, sta salendo, le bande di Bollinger si stanno allargando, la media mobile attraversa il prezzo dal basso verso l'alto. Quindi compreremo una call con scadenza a un'ora. Per poter fare più investimenti in una giornata vi consiglio di seguire più asset. È la piattaforma di NetDania, è la migliore. Infatti possiamo aprire molti grafici contemporaneamente, addirittura sei. E se avete anche un altro computer, ne potrete addirittura aprire dodici. Se volete ulteriori informazioni su questa tecnica, potete andare nel mio blog. Altrimenti potete andare nel mio sito, che a breve verrà rinnovato e ci saranno delle risorse gratuite, con altri ebook, con queste slide e con altre tecniche in pdf. Se avete bisogno del mio aiuto o volete contattarmi, potete andare su Facebook. Come al solito, vi metto gli indirizzi giù nel box. Vorrei ricordarvi del mio libro, dove potete trovare altre tecniche di investimento, dai 60 secondi, 5 minuti, 10 minuti e 15 minuti. Il libro è pubblicato dalla Bruno Editore e si trova sul sito di Autostima.net. Ha un costo di 9,97 euro più IVA ed è composto da 133 pagine. In questo libro è spiegato anche l'utilizzo di vari indicatori. e la loro applicazione pratica. In questo libro potete avere anche informazioni su come creare altre tecniche, che possono fare al caso vostro. Abbiamo la versione ebook, audio e video. Spero di poter fare altri video al più presso e potervi farvi vedere altre tecniche di investimento. Per adesso vi saluto e per oggi è tutto. Grazie.